Sempre più spesso molti lettori mi scrivono quali sono le metodologie discriminatorie che utilizzo per preselezionare una ICO, una ICO, una Initial Coin Offering. Non è facile con poco tempo espositivo elencare quelle che sono le prassi operative tipiche di chi per mestiere ad esempio fa questo tipo di preselezione. Tuttavia vi voglio dare 5 fattori di preselezione cosiddette non convenzionali che io utilizzo molto spesso quando davanti a me magari ho un ventaglio di 20 ICO che iniziano nel corso della settimana e devo per ragioni finanziarie investire solo su due o tre di esse. Quindi necessito con velocità la possibilità di scegliere quelle da mettere in pole position che poi successivamente saranno rianalizzate con un maggior grado di approfondimento. Vediamole assieme. La prima? Innanzitutto la ICO che mi viene proposta o che sto studiando o preanalizzando è in grado di soddisfare ad un effettivo bisogno pratico per un consumatore o ad un fruitore? Se la risposta a questa domanda non è facile lasciate perdere perché se non riuscite a capire con facilità quello che vogliono realizzare e che cosa poi praticamente quello che sarà realizzato dovrebbe servire non è il caso di andare avanti ma subito passare a qualcosa di innovativo o di alternativo. Secondo elemento la roadmap è chiara e comprensibile? Chiara dal punto di vista temporale? Ha un orizzonte eccessivamente largo dal punto di vista della manifestazione temporale? Faccio un esempio pratico. Da qui a tre anni comincerete a vedere i primi risultati della società, da qui a tre anni avremo realizzato il nostro portafoglio clienti e così via discorrendo. Lasciate perdere se l'orizzonte è troppo lungo non è il caso di aspettare così tanto perché per fortuna esistono tantissime altre opportunità in parallelo. E' molto interessante anche la comprensione della roadmap non dal punto di vista temporale ma degli obiettivi che devono essere raggiunti all'interno di un percorso in ambito cronologico. Terzo elemento di secondo me discriminazione il token, l'equity token o l'utility token. Dopo sarà quotato? In quali exchange? In quanti exchange? Per quale motivo questa domanda? Perché se devo andare ad investire capitale di rischio in un'attività imprenditoriale che anche se sarà in grado di raggiungere quello che promette devo anche avere la possibilità di uscire come investitore per capitalizzare eventuali profitti bonus o quello che saranno. Se i token dovessero essere negoziati a distanza di qualche anno anche in questo caso lasciate perdere. La stessa dicasi anche per la durata della ICO sia in fase di pre-ICO che per tutta la finestra temporale con i vari bonus che verranno a riconosciuti a seconda delle tranche, delle finestre in cui io intenderò entrare e investire. Quarto elemento discriminatorio che molte volte a me ha dato i suoi frutti perché mi ha consentito di evitare i cosiddetti scam è il sito, il website. Vale a dire il sito internet in cui è pubblicizzata e descritta l'attività imprenditoriale con i suoi futuri sviluppi è credibile, trasmette un'immagine di professionalità o è un sito fatto da un ragazzino improvvisato in poco tempo senza grandi velleità. Spesso molte ICO hanno questo tipo di impostazione, vale a dire l'incapacità dei promotori o dei fondatori di trasmettere confidence a chi vuole investire. Fate molta attenzione soprattutto ai filmati, alle clip di presentazioni, come sono fatiche, qualità di immagine, chi sono, quante volte sono stati visti, ovviamente se sono un video embedded su YouTube e così via discorrendo. Quinto elemento discriminatorio è i kids, come li chiamo io, i ragazzini. Se vado a analizzare il team, il team work, il team fondatore, chi sono le persone che vogliono lanciare questo nuovo progetto imprenditoriale e mi accorgo che sono esclusivamente ragazzini, vale a dire diciottenni, ventenni, per carità sicuramente qualche volta avrò anche scartato il futuro Mark Zuckerberg però nella maggior parte delle occasioni ci troviamo innanzi a persone che magari sono appena uscite dall'università o non l'hanno neanche completata e si cimentano, si buttano su questo tipo di ambiente. Non basta essere giovani per lanciare un'impresa, ci vogliono anche competenze e spesso molto background professionale in ambito finanziario, soprattutto quando stiamo parlando di raccolta di capitale di rischio e poi di messa a reddito dello stesso. Io preferisco quelle AICO in cui oltre a ragazzini illuminati a fianco abbiamo oltre che a advisor di prestigio anche altri soci fondatori che hanno un background professionale di significativa rilevanza e questo lo si può generalmente desumere attraverso la pagina LinkedIn in cui ogni fondatore poi riporta il proprio profilo professionale. Trovate sulla nota descrittiva della clip quelli che sono secondo me i tre migliori portali di informazione finanziaria per la ricerca ed analisi delle AICO del momento, di quelle che saranno, quelle che sono in fase di prelancio di quelle che saranno lanciate più avanti con spesso il commento da parte di esperti del settore che danno un giudizio di merito proprio sull'attività imprenditoriale che la AICO vuole lanciare.